Nel giro di pochi giorni abbiamo dovuto dire addio a due giganti della nostra storia. Il 5 gennaio ci ha lasciato Ernesto Castano, grandissimo difensore nella Juve degli anni 60. Ieri abbiamo dovuto separarci da Luca Vialli. Gianluca Pessotto è qui con noi per salutare il nostro bambino. Ciao Luca, siamo sicuri che stasera sei qui, da qualche parte, in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene così come è stato fin dal primo giorno. Sei stato per noi una guida in campo e fuori, compagno di spogliatoio, di vittorio, capitano, amico. Nessuno potrà mai ascoltare la tua sottile ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia. Nessuno potrà mai ascoltare le emozioni che ci hai regalato con le tue giocate e i tuoi gol. Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Ora siamo qui, tutti insieme, allo stadio, pronti ad abbracciarti, così come siamo sempre stati pronti ad esultare ad ogni tua prudenza. Ciao capitano, fai buon viaggio, ti vogliamo bene. Grazie. 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 Grazie.